Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, oscilla tra Obama e Putin, dimenticando i nostri soldati. Che cosa vuol dire? Ho visto un Presidente Letta estremamente infastidito dal mio intervento. In realtà io ho colto quello che nessuno ha avuto il coraggio di dire in aula. Per primo che questi G20 hanno un taglio molto meno importante rispetto ai G7 dove effettivamente si facevano anche delle scelte di carattere economico importanti. Quindi un G20 sottotono in cui non si sono parlate delle vere questioni economiche e delle problematiche anche dell'aggressione che c'è da parte dei paesi che vengono chiamati i BRICS, cioè i paesi emergenti. Non si è parlato di quella che è la politica economica monetaria europea e mondiale e di questa politica che sta facendo gli Stati Uniti d'America. La politica monetaria è estremamente aggressiva o il ruolo di quelle che vengono chiamate le shadow banking, cioè tutte quelle banche che però non sono vere e proprie banche ma sono finanziarie, sono grandi multinazionali che quindi operano nel settore della finanza ma operano non sotto il controllo dei grandi gruppi bancari internazionali. E che sono quelle che hanno poi provocato il grande problema dei debito sovrano americano, dei subprime e sono quelle poi che hanno inventato anche gli suopi derivati che hanno portato a questa grave crisi finanziaria e economica che è sfociata in quello che tutti noi conosciamo, una delle più grave crisi sicuramente che c'è dal dopoguerra ad oggi. Abbiamo anche accusato di una politica di doppio giochismo nei confronti degli Stati Uniti e della Russia. Abbiamo visto che la linea vincente che noi condividiamo a pieno è quella russa, quella della mediazione, quella del dialogo. Noi siamo sempre stati non interventisti, però peccato e l'ho visto, ho visto una smorfia nel viso di Letta, perché quando si dice la verità poi insomma si dà molto fastidio, una smorfia nel sorriso del viso di Letta quando io ho detto che aveva firmato sia un tavolo che un altro tavolo, cioè sia con gli Stati Uniti dell'America per un possibile intervento e sia con Putin e quindi con Mosca e con quei paesi che poi non volevano assolutamente intervento e la mediazione. Quindi mettendo in rilievo questo doppio gioco e questa debolezza dell'Italia dovuto al fatto che questo è un governo estremamente debole. Un intervento quindi quello del Presidente che noi riteniamo assolutamente sottotono e che rileva che l'Italia ha perso veramente un ruolo importante nella politica economica europea e internazionale.